Non solo Antonio, mi mimetizzavo con la macchina nera, nera, nera invece, niente, questo per dire caro Tilo che il branco è braccato e gli inquirenti non brancolano nel buio, perché se il branco è braccato e gli inquirenti non brancolano nel buio, vuol dire che ci siamo, no non mi sono perso, il ragionamento filava, non fondeva ma filava, Tino Ismaele, ragazzo di 21 anni, un grandissimo, della nostra community, picchiato, prima minacciato sul pullman, il 12, anche se l'autista non ha visto niente, pensate un po' che violenza inaudita rispetto a qualcosa che doveva essere invece fatto da tutti quelli che erano sul pullman, c'era altra gente, c'era altra gente, ma nessuno ha fatto niente, è veramente una cosa vergognosa che nessuno ha intervenuto, manco l'autista, non mi hanno fatto male le botte, ma l'indifferenza della gente. Beh, Tino, ci siamo, ci sono le immagini, Ismaele li ha visti, i suoi aggressori, hanno le ore contate, possiamo dirlo, Tino, i riflettori sono puntati, la giustizia farà il suo corso, anche per salvaguardare l'onore di un cittadino che si è distinto, merita la medaglia, speriamo che il sindaco dei carri gli dia la medaglia, una medaglia, oh, merita la medaglia, noi lo diciamo, poi quello che vogliono fare, poi quello che vogliono fare facciano, capito ti? Stanno là, vi ho sentito, vi ho sentito, grata, siete andati là, a Ismael, a Deci, il calcio, Pugna, a Ter, Pam, eh, in Branco siete bravi, eh, e comunque sappiate che avete le ore contate, perché, come dicono a Bergamo, Ismael, lo sai, va a WAND, vi prendono, questa è la verità, vi prendono, però, Tino, c'è una novità, una bella novità, perché noi lo diciamo sempre, gli animi gentili salveranno il mondo, un dentista, si è fatto avanti per provvedere, eh, gratuitamente, a rimettere a posto il dente di Ismaele. No, non ci posso credere. No, no, ci devi credere, hanno chiamato la polizia, si è fatto avanti questo professionista, abbiamo avuto notizia direttamente dalla mamma di Ismaele, questo ci ha fatto un piacere enorme, ma fa fare pure il video di incoraggiamento a Ismaele che ho fatto ben volentieri, anzi, Ismaele, oltre il video, lo diciamo adesso, proprio qui alla camera, sei veramente eccezionale, continua così, sei stato un esempio rispetto a tutti quelli che, quando succede qualche fatto di un certo tipo, magari girassero la testa da un'altra parte, Tino, no, quelli sono la categoria intermedia, sai qual è l'altra categoria? No, se non me la dici. Eh, te la devo dire, per forza, quelli che spariscono, Tino, spariscono. E infatti è separito. Eh, hai visto? Eh, invece ricompaio. E quindi su questa storia, Tino, noi siamo sempre allerta e vi racconteremo degli aggiornamenti presto, croccantini, croccantini, molto presto, lo sappiamo, croccantini, gli aggiornamenti, ah, gli aggiornamenti, sì, no, tu vuoi essere veramente picchiato, tu devi essere picchiato, tu devi essere picchiato, tu devi essere...